Quando ho avuto la notizia che Luigi non c'era più, su Facebook l'ho ricordato come il nonno degli editori. Nei miei confronti, quando 30 anni fa ho iniziato questa attività, è stato paterno. Lui era amico di mio padre e in qualche modo ha capito perché un giovane laureato dell'Università della Calabria voleva fare l'editore. Mi ha sempre dato grandi consigli. Ogni volta che mi vedeva mi ha entusiasmato per questo suo desiderio di raccontare la Calabria. La casa editrice Pellegrini sotto la guida prima di Luigi, poi di Walter, adesso anche della terza generazione dei Pellegrini, credo che sia davvero un segno importante in questa Calabria. La perdita di Luigi Pellegrini, anche ad età avanzata, però è un lutto per tutti noi. Viene a mancare una persona molto cara, una persona lungimirante che da un paese della Valle del Savuto, da Cleto, immaginò negli anni 40 una casa editrice. Prima di Luigi Pellegrini e subito dopo di Gustav Brenner, che era stato nel campo di concentramento di Ferramonti, i calabresi dovevano emigrare anche per stampare un libro di poesia. Ecco, questo fatto che un uomo della terra della Calabria, di Cleto, abbia pensato negli anni 50 di fondare prima una rivista e poi una casa editrice ha allargato gli sguardi, ha fatto in modo che chi è venuto dopo di lui ha potuto raccontare le bellezze di questa terra e chi l'ha saputo cantare. Con Pellegrini hanno pubblicato grandi autori, i più grandi autori della letteratura calabrese.